Oggi la decima edizione della giornata europea dei giusti. Le celebrazioni a Pescara hanno avuto come teme i genocidi e le atrocità di massa. Le storie dei giusti contro il silenzio e l'indifferenza sono state incentrate sulla guerra in Ucraina. Sono passati dieci anni da quando accogliendo l'appello della fondazione Garivo, sottoscritto da numerosi cittadini ed esponenti del mondo della cultura, nel 2012 i deputati del Parlamento europeo stabilirono di istituire la giornata europea dei giusti. Stamani al giardino dei giusti di Pescara, Villa Sabucchi, dedicato a Gianni Cordova, l'incontro con la città e con le istituzioni e con gli studenti di sei istituti della città. Oscar Buonamano, ambasciatore Garivo. Sì, oggi noi festeggiamo con una settimana di ritardo la giornata dei giusti, istituita dal Parlamento europeo dieci anni fa e che cade ogni anno il 6 di marzo. Dopo un po' di anni è stata ratificata anche in Italia dal presidente Sergio Mattarella e quindi siamo qui oggi noi nel giardino dei giusti di Pescara che abbiamo istituito un po' di anni fa a festeggiarla. Non pianteremo oggi due alberi per evitare le questioni di sovraffollamento del covid, lo faremo a maggio. Oggi invece dedichiamo questa giornata al popolo ucraino che sta combattendo e sta resistendo contro un'invasione che sta subendo e abbiamo scelto questo brano di Elsa Morante che è un ciclo di conferenze che lei fece nel 1965 contro la bomba atomica dal punto di vista dello scrittore. Quali sono le scuole coinvolte? Allora, liceo scientifico Galileo Galilei, l'istituto tecnico superiore Alessandro Volta, il liceo artistico musicale correutico Misticoni Bellisario, il liceo classico Gabriele D'Annunzio, l'istituto tecnico statale Aterno Mantone, l'istituto tecnico Tito Acerbo, che sono anche le sei scuole che fanno parte del progetto Conversazioni a Pescara, che è un festival letterario che facciamo insieme al Salone del Libro di Torino. E una studentessa ha letto un passo del testo di Elsa Morante. Secondo me personalmente questo brano è veramente molto importante e può fare la differenza all'interno comunque della nostra generazione di adolescenti e di noi ragazzi, in quanto credo che comunque il messaggio che trasmette è molto importante in quanto cerca di dare comunque valore a quello che lei fa, cioè attraverso la poesia trasmettere comunque dei messaggi importanti che spesso al giorno d'oggi vengono comunque sottovalutati dalla nostra generazione.